Presidente l'importanza degli investimenti per i piccoli comuni, ribadendo proprio l'importanza Abbiamo detto, se avete seguito il mio intervento, 9 miliardi nel prossimo triennio, abbiamo sbloccato alcune centinaia di milioni per alcune decine di milioni per quanto riguarda anche per offrire la possibilità ai comuni di rinegoziare i mutui che è molto importante, abbiamo in cantiere ulteriori interventi a favore dei piccoli comuni che rappresentano l'anima civica e sicuramente garantiscono la qualità democratica del nostro paese